Specializzazione, innovazione, brevettualità per un marchio leader come Stonefly. Innovazione vuol dire innovazione tecnica che per noi è la nostra base da cui siamo nati. Innovazione stilistica su quale stiamo facendo un notevolissimo sforzo con risultati anche stante quello che possiamo toccare con mano, anche molto visibili e innovazione anche da un punto di vista di un punto estremamente importante, qualità-prezzo. La nostra mission ultimamente è quella di riuscire a creare, mettere insieme tutti questi componenti con una qualità indubbiamente riconosciuta ma indubbiamente con un prezzo accessibile.